E caccia il killer che rimattina poco prima delle 10 sulle colline di Covignano a Rimini ha ucciso Leonardo Bernabini, 55enne di Bergereto, con due colpi di fucile da caccia a canna corta. L'uomo, che faceva l'autista di auto e pullman e arrotondava come tassista per le discoteche ma senza licenza, è stato freddato all'interno della sua Opel Astra, parcheggiati in una piazzola a lungo via Monte Rotondo, una stradina di campagna che scende dal colle di Covignano e finisce in un sentiero sterrato. Una via circondata da campi di Ulivi. La svolta è arrivata verso le 16.30 di ieri dopo il ritrovamento dell'arma in un cespuglio a 700 metri dal luogo del delitto e saltata fuori grazie ad una battuta dell'esercito che si è servito anche dei cani in grado di annusare l'esplosivo. Gli inquirenti riminesi sarebbero sulle tracce di un trentenne castano, alto circa un metro e settanta, che dopo aver sparato a Bernabini si è dato alla fuga nella vicina campagna spaventato dalle grida di un testimone che ha assistito inerme alla scena e che ha riferito che l'omicida puntava la canna del fucile alla nuca dell'uomo seduto al posto di guida dal finestrino posteriore aperto. Il killer è stato notato qualche minuto più tardi vicino al cimitero di Santa Cristina. Una vera e propria task force si è messa sulle tracce dell'assassino. Carabinieri, polizia, esercito, coadiuvati dall'utilizzo di un elicottero. Ma resta da capire il movente del delitto. Leonardo Bernabini, la vittima, non frequentava personaggi loschi né ambienti a rischio legati al sesso. Da otto anni si era separato dalla moglie, ogni tanto si appoggiava alla sorella che vive a Rimini o al fratello che vive a Coriano. Di sicuro non se la passava bene economicamente.